Allora Roberto tu alza la mano quando Antonio deve dare l'ok per il cambio, attenzione la foto di Rito, al fischio si parte, pronti? E parte la primavera con Alessandro Vecchiotti Ok E cade, deve ripartire dall'inizio Devo dire che non è semplice il gioco Poi quest'anno abbiamo scelto le mele con la circonferenza un po' più grande E la volta di Alessandra Ok terzo bicchiere portato e riparte per il secondo giro Alessandro Un minuto trascorso Guarda Pino come sono concentrati Ti dicevo che non è facile, tra gli ostacoli la mele è leggermente più grande Ti dirò che abbiamo cambiato anche i bicchieri Perché ci siamo accorti che i bicchieri bianchi erano più aderenti Ah quindi meglio quello tra quelli trasparenti no? Esattamente, abbiamo fatto tutti i piccoli accorgimenti Infatti l'anno scorso erano un po' più veloci E siamo al sesto bicchiere portato Due minuti in questo momento Questo si è appeso un attimino Ok, bravissimo Sette bicchieri Ottavo bicchiere Vediamo un po' 30 secondi al termine 15 secondi 10 Dubito che facciano un altro giro 5 secondi 2 1 Stop in questo momento 3 Stop in questo momento 2 2 3